Una tonnellata di sostanza superfacente sequestrata, 4.000 piante per un valore di circa 3 milioni di euro, 9 arresti ed una denuncia, è il bilancio di un'ampia attività investigativa dei carabinieri che si svolta negli ultimi mesi nel comprensorio gelese. Oggi, durante una conferenza stampa che si è svolta nei locali della Procura, sono stati elencati i vari interventi eseguiti dai militari dell'arma di Gela, Niscemi e Butera, coordinati dal Comando Provinciale. Servizi finalizzati al contrasto dello spaccio nelle varie forme in cui si esprime dalla vendita al minuto alla distribuzione ai pusher. Sono state diverse le perquisizioni effettuate e negli ultimi giorni i carabinieri hanno rivenuto quantità significative di cocaina e marijuana. Due le persone ammanettate. Si tratta di Carmelo Antonuccio, 26 anni, pregiudicato gelese, e di Orazio Giannone, un imprenditore riesino di 36 anni. Nel primo caso, i carabinieri di Gela, assieme a quelli della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno pedinato il giovane gelese, già noto per essere stato arrestato, nell'operazione Agorà, che nel 2013 sgominò la consorteria mafiosa della Stidda. Con l'ausilio del cane Gocchi, hanno fatto eruzione nella casa di Antonuccio, rimanendo, occultate all'interno di un contatore della corrente elettrica, una cinquantina di dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 25 grammi, nascoste in contenitori per farmaci tipo aspirina e Vivinci, per dissimulare la loro presenza. Trovati anche 50 euro in contanti, un bilancino di precisione ed un coltello sporco di sostanza stupefacente utilizzato per il taglio delle dosi. Se messa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 1.500 euro. L'altro episodio ha permesso di individuare in un'azienda agricola di Contrada Gurgazzi a Butera 100 kg di marijuana. La sostanza stupefacente era contenuta in 15 sacchi essiccata e pronta per la vendita. Gli inquirenti, a seguito di elementi informativi acquisiti, hanno confermato che in provincia di Caltanissetta ci sarebbe ancora una notevole quantità di marijuana in circolazione. Antonuccio e Giannone sono stati reclusi nel carcere di Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli inquirenti, a disposizione dell'autorità giudiziaria.